Buonasera, sono Giuseppe Manganelli, Presidente dell'Accademia dei Fisiocritici e ho il piacere di darvi il benvenuto a questa iniziativa dove sarà presentato l'ultimo libro di Duccio Balestracci, stato d'assedio, assediati e assedianti dal Medioevo all'età moderna. Io ringrazio l'Accademia Senese degli Intronati per averci voluto coinvolgere nell'organizzazione di questo evento insieme alla Casa Editrice Il Mulino. Ringrazio Duccio, che è socio di entrambi le Accademie, per aver ancora una volta scelto quest'aulamagna per la presentazione di un suo volume. Ringrazio gli illustri ospiti che interverranno dal remoto nella presentazione di questo volume e lascio la parola a Professor Roberto Barsanti, Presidente dell'Accademia Senese degli Intronati. Grazie. Sono io a ricambiare i più vivi ringraziamenti all'Accademia dei Fisiocritici, al suo Presidente, che ci ha consentito di organizzare al meglio queste nostre presentazioni. Stasera abbiamo ospiti illustri, molte voci da ascoltare, che consigliano a me una estrema brevità. Devo associare, e lo faccio volentieri, a questi ringraziamenti iniziali, Alessia Soverini, che ha collegato alla piattaforma del Mulino questo nostro dire, questo nostro conversare, dandogli di conseguenza una possibilità di ascolto molto ampia. La collaborazione con la casa editrice Mulino è sempre stata molto viva e molto importante. Dunque, viene presentato il libro di un socio illustre dell'Accademia degli Intronati e dell'Accademia dei Fisiocritici, come del resto, immeritatamente sono anch'io, e viene presentato perché ha caratteri che veramente suscitano, sia un profondo interesse storiografico che una riflessione sullo stato presente. Ma le stracci non sta a me presentarlo perché sarà Sabina Minardi, che ringrazio di aver accolto il nostro invito, la conduttrice della nostra conversazione. Sabina, come sappiamo, è il capo servizio del settimanale L'Espresso per le pagine dedicate alla cultura e alla società, che hanno un timbro saggistico, veramente di grande vivacità, segnano una novità anche nel tipo di giornalismo che seguiamo, un giornalismo serio, di riflessione. Dunque, Sabina sarà sicuramente la più adatta a fare un po' da regista a questo incontro. Al centro, il libro di Duccio Barestralci, su cui non dirò nulla, eventualmente se ne può discutere dopo, ma dico subito anche che non sono previste chat o ulteriori dibattiti perché già l'espansione temporale che è necessaria per la presentazione, le presentazioni, è abbastanza ampia e quindi conviene concentrarsi su queste. Ci saranno poi occasioni ulteriori di colloquio dell'autore Duccio Barestralci con altri ascoltatori in altri momenti, in altre situazioni e circostanze. Il libro è veramente un libro che si legge con grande interesse perché è, se posso spendere solo una parola per caratterizzarlo, un esempio di global history. Duccio ci ha abituato a partire da eventi o situazioni o consuetudini tipiche, ad esempio, della nostra città. Penso al Palio, penso al senso della festa, se non del torneo e della giostra, della festa agonistica del Palio. Penso anche al destino di Siena, la stessa nascita di Siena, che deve molto ai pellegrinaggi, a essere stata sosta lungo l'Ave Francigena, e mi viene in mente il libro, appunto, sui viaggi del Medioevo. Insomma, Duccio Barestralci è persona che tanto ha dentro alle vicende di una città-universo, come noi ci, orgogliosamente, forse un po' troppo, ci ostiniamo a considerare Siena, e ai temi che essa offre, che però lui tratta in una visione, in una prospettiva, che va al di là, ovviamente, dello stretto localismo, anzi, lo supera del tutto, per non costringere la nostra conoscenza entro confini impropri, che poi renderebbero incomprensibili anche i fenomeni di cui si parla. Qui si parla di assedio, Siena ne sa qualcosa, il suo assedio di Metà il Cinquecento è una pagina straordinaria nella stessa storia d'Italia, però poi ci si richiama anche a vicende recenti. E voglio solo sostenere un punto di quello che dice Barestralci nell'introduzione, in realtà il libro scrive di assedi di secoli fa mentre si è sotto un assedio da parte di un amico invisibile e questo è un'esperienza metastorica. Al di là di questa sintonia, importante è un'altra sottolineatura, è l'unica che voglio aggiungere, perché a un certo punto Lucio Barestralci dice che in realtà il titolo Stato d'Assedio può essere letto anche come Stato d'Assedio. Questo significa che insieme ai dati guerreschi, alle macchine usate in vario modo, in vario senso per assediare il nemico, il libro si intrattiene su aspetti che direi psicologici, se non antropologici, di stato d'animo in quanto, e questo era molto presente, questa ottica che congiunge il fatto alla percezione del fatto anche nelle primissime prove storiografiche di Barestralci. Ma non voglio ulteriormente allungare la mia presentazione, voglio semplicemente sottolineare l'importanza che attribuiamo alla presenza di Alessandro Barbero e di Antonio Usarra. Non ci potevano essere sicuramente presenze più prestigiose e adeguate. Alessandro Barbero è, insomma, ormai attraverso la televisione ci fa compagnia spesso, dunque non spendo molte parole. ha la straordinaria capacità di raccontare la storia, spesse volte la storia, giustamente anche la ricerca diventa storiograficamente ponderosa, se non filosofica, è importantissima, ineliminabile, ma quando ci si rivolge a pubblico una divulgazione che sia seriamente fondata è la chiave di volta che avvicina anche un pubblico molto largo a temi molto difficili. Alessandro Barbero racconta con una straordinaria vivacità e profondità di conoscenza a Waterloo, Alabama, Siena, tante altre città toscane, non le voglio elencare, con pari conoscenza e con una capacità di parlare senza empito retorico, ma con confidenzialità veramente attraente. Lo ringraziamo molto di aver accolto il nostro invito, come ringraziamo Antonio Musarra che anche lui insegna alla Sapienza di Roma, non dimenticato di dire Barbero, è ovviamente ordinario di Sera Medevale dal 2002 ed è credo tuttora docente all'Università Piemonte Orientale e Musarra lo conosciamo per tante pubblicazioni riferite a tematiche analoghe a quelle che sono oggetto del libro di Palestracci, abbiamo sfogliato con enorme piacere il grande racconto della crociata che ha proposto insieme all'amico Franco Cardini e siamo sicuri che anche stasera parleremo molte cose da quello che ci dirà interloquendo con Dulce Palestracci. Grazie a tutti e buon ascolto. Grazie e buonasera a tutti anche da parte mia è un onore ed è un grande piacere essere qui con voi grazie per l'accoglienza virtuale avrei tanto voluto essere presente a Siena saluto con particolare amicizia il presidente Roberto Barzanti e lo dico pubblicamente porto nel cuore le parole speciali che lei ha avuto ormai quattro anni fa verso Caterina della Notte all'interno del Santa Maria della Scala in quell'occasione meravigliosa di parole di musica di letture che per me è davvero indimenticabile grazie al presidente Manganelli seguo con grande interesse da anni le pubblicazioni del professor Ducio Balestracci certamente ho presente il suo libro sulla battaglia di Montaperti ma anche della grande festa italiana per eccellenza che è il Palio di Siena è un grande piacere di trovare anche il professore Alessandro Barbero siamo tutti i suoi fan ci siamo sentiti tante volte per telefono il nostro interlocutore privilegiato quando vogliamo capire quali sono le radici del nostro presente alla luce del passato e sono molto lieta di conoscere anch'io il professor Antonio Musarra che so esperto di Medioevo di Crociate ma anche di Repubbliche Marinare di storia e storie da narrare perché poi in fondo la cosa che probabilmente vi accomuna tutti quanti è questa arma potentissima che avete nel trasformare in storie contemporanee che ci riguardano che dunque ci interronano che ci scomodano dei fatti che sono alle nostre spalle io confesso subito di essere entrata in stato d'assedio da Estranea Estranea è per me il mondo militare e il mondo del gergo bellico del mondo delle armi ma con la consapevolezza di non conoscere ho affrontato questo libro nel quale ho amato da subito poi inoltrarmi perché il professor Valestranci padroneggia così tanto i fatti storici che riferisce ne ha copiuto una lettura così profonda sa come metterli in collegamento da potersi permettere il lusso di farci vedere di farci sentire la condizione dell'assediato e dell'assediante come diceva appunto Roberto Barzanti poco fa lo stato da assedio cosa vuol dire trovarsi a vivere in uno stato di blocco di un insediamento per gli uni e per gli altri trovo molto interessante un punto di forza del libro che si ponga il problema della condizione psicologica per esempio da entrambe le parti sia da chi lo subisce quindi è travolto da certezza dal timore sia da parte di chi assedia e che certamente non si trova in una situazione priva di disagi né di pericoli e il risultato è stata una lettura vertiginosa che mi ha fatto scoprire per esempio che la stagione più propizia per l'assedio è la primavera che l'assedio ideale è quello che dura poco che la chiave di volta per risolverlo è spesso la fame che regine dell'assedio sono le macchine le macchine da guerra che in molti casi hanno persino nomi propri la cattiva vicina la cattiva parente il vittorioso e potrei continuare con moltissimi esempi per farvi rendere conto di come se questo è il libro naturale di uno storico è anche il libro ideale per ogni lettore curioso per un lettore selvaggio per dirla con la definizione dello scrittore Giuseppe Montesano il lettore onnivoro che ama secondare perdersi nell'immaginazione che i libri più belli rendono più vivide e navigare in questo mare di informazioni senza tutele io amo particolarmente i libri che rompono le gabbie e sanno farci fare da lettori questa esperienza di libertà c'è naturalmente un fatto non irrilevante che ci trattiene al suolo e che inevitabilmente fa da sottofondo a questa lettura e cioè lo stato d'assedio che stiamo vivendo dall'anno scorso per colpa di questo nemico invisibile che è il virus c'è un passaggio nel quale lei fa riferimento nel libro alla contabilità dei morti come esorcismo della sensazione di essere travolti dagli eventi che si attaglia perfettamente a quello che stiamo vivendo che è persino commovente ci sentiamo assediati quando siamo soggetti a misure restrittive ci sentiamo assediati psicologicamente soprattutto per l'incertezza di questo virus assediati persino dal sovrapporto di informazioni spesso discordanti ecco l'ha ricordato il presidente Barzanti scrivere in queste condizioni come lei ha detto è stata un'esperienza quasi metastorica ma io come è stato scrivere questo libro in questa situazione glielo chiederò esplicitamente tra un po' adesso mi interessa e mi incuriosisce soprattutto partire proprio con lei da una cosa cioè capire come ha lavorato per ottenere questo effetto vertigine lei intreccia delle vicende che non avevamo dubbi che conoscesse benissimo ma l'intreccia ha fatti distanti nel tempo nello spazio faccio un esempio anche per chi ci ascolta online che magari non ha ancora letto il libro a un certo punto parla dell'impresa di Siena contro Montemassi nel 1327 e passa l'assedio di Pizzigettone e poi naviga da Pavia Volterra da Firenze a Parigi l'ultimo assedio ci spiega di tipo tradizionale nel 1870 per poi riportarci a Gerusalemme a Malta e in sperduti borghi toscani nuovamente professor Malastracci come hai incrociato tutti questi eventi grazie intanto della cura con la quale lei ha letto il mio libro come li ho incrociati li ho incrociati volutamente in maniera eterogenea dal punto di vista cronologico attraverso un'analisi di lunga durata perché quello che a me interessava era l'ho scritto già all'inizio proprio all'inizio del libro non tanto fare una storia della polemologia perché storia degli assedi dal punto di vista polemologico ce ne sono di eccellenti faccio un nome fra tutti Aldo Settia ha scritto delle pagine meravigliose definitive dense piene di informazioni a me interessava capire se e come in situazioni diverse in momenti diversi in epoche diverse si reagiva nello stesso modo o in modo differenziato rispetto a stimoli che dal mio punto di vista potevano essere sembrare degli stimoli analoghi e allora capisco che il lettore si trovi un po' spiazzato a trovarsi sballottato fra io tapata a Gerusalemme del primo secolo dopo Cristo che resistono ai romani fino agli assedi di Torino del 1706 di Vienna del 1683 ma ho fatto qualche cosa di più scandaloso senza dichiararlo senza esplicitarlo troppo mi sono infilato dentro l'Alcazar di Toledo del 1936 e mi sono infilato dentro le testimonianze di Sarajevo e Sarajevo ahimè ce l'abbiamo ancora le ferite di Sarajevo le abbiamo ancora nel nostro ricordo ho voluto proprio fare questo ho voluto fare un tentativo se ci sono riuscito questo non lo so per l'amore del cielo lo giudicheranno i lettori i critici eventualmente ma il mio tentativo è stato esattamente questo e allora non ho fatto troppe troppe gerarchie e quindi Pizzichettone o Montemassi cioè realtà di assedi apparentemente apparentemente minori poi di fatto non lo sono trovano una interlocuzione con assedi epici e assedi che sono entrati nella grande storia per carità Costantinopoli 1453 figuriamoci ma Famagosta voglio dire Malta e quanto e quanto di altro perché poi mi interessava appunto capire come si adottassero o non si adottassero analoghe analoghe misure per resistere come si si vivesse analogamente o non analogamente dal punto di vista psicologico questa è stata la molla del mio del mio lavoro grazie professor Barbero vengo a lei ho cominciato tra l'altro a leggere il suo Alabama ci ha spiazzati non ci aspettavamo un tuffo nella guerra civile americana tra l'altro in queste settimane in edicola proprio con l'espresso per raccontarci i campi di battaglia come ricordava sempre il presidente Barzanti io l'ho sentita in passato interrogandola su alcuni fenomeni diciamo contemporanei che sembravano avere delle radici nel medioevo e lei più volte ci ha detto che conoscere la storia non impedisce che i fatti si ripetano anzi spesso le cose si ripetano e si ripetono anche peggio della prima volta non si entra due volte nelle acque dello stesso fiume lo diceva già Eraclito ma questa storia di assedianti e di assediati qualcosa vorrà pur dire la nostra contemporaneità assolutamente sì in qualche misura l'ha appena anticipato Duccio Balestraci e io proprio da questo vorrei vorrei ripartire perché come dire l'idea di fondo di questo libro che lo rende unico e che è un'idea lo dico subito azzeccata al cento per cento è proprio la riscoperta del fatto che trovarsi sotto assedio è una condizione esistenziale che può capitare in qualunque momento della storia che in passato capitava indubbiamente più spesso anche se poi noi altrimenti abbiamo la tendenza ad appiattirlo il passato cose avvenute in due decenni successivi a noi sembrano vicinissime però ammettiamo pure che nella storia relativamente recente gli assedi siano meno frequenti non per questo hanno smesso di esserci e l'intuizione fondamentale di Duccio è proprio di aver capito che in realtà al di là delle differenze delle tecnologie che in questo ambito sono forse meno significative che non in altri ambiti della storia umana perché comunque i problemi che pone l'assedio sono simili e provare a sfondare le difese o demoralizzare gli assediati tirandogli delle pietre con un trabocchetto o tirandogli dei proiettili da 106 mm con un obice ecco in realtà l'approccio è fondamentalmente lo stesso ecco la grande intuizione di questo libro è aver capito che dover assediare una città per un comandante partecipare a un assedio per un esercito dover difendere una città e soprattutto direi trovarsi in una città assediata per la popolazione civile e così colmiamo anche il gap con chi appunto di storia militare non si interessa particolarmente perché questo appunto non è certo solo un libro di storia militare no sono condizioni a cui l'umanità sempre si è trovata soggetta e può tuttora trovarsi soggetta io vorrei sottolineare la modestia con cui l'autore ha parlato nel sottotitolo del libro dal medioevo all'età moderna in realtà è proprio un caso di modestia estrema legata al fatto che Duccio io continuo a chiamarlo così Duccio ci conosceva da sempre scusatemi se ecco è legato al fatto che lui si sarà detto beh non ho analizzato tutti gli assedi dell'antichità la mia campionatura è più densa più completa per il medioevo e per l'età moderna e quindi per non indurre in errori in aspettative esagerate diciamo dal medioevo all'età moderna ma in realtà in realtà il libro appunto analizza quello che succede in questa condizione ripeto esistenziale che è l'assedio partendo dall'antichità e arrivando praticamente fino ai giorni nostri e in questo come dire non voglio dilungarmi troppo però siccome parliamo anche a un pubblico che magari appunto non è di specialisti di questi argomenti però noi possiamo avere l'impressione che gli assedi siano roba vecchia roba che non fa più parte del nostro mondo contemporaneo ma in realtà vabbè sono 150 anni adesso proprio quest'anno sono 150 anni dall'assedio di Parigi da parte dei prussiani concluso nel 1871 è storia è storia di un'altra epoca di un'epoca molto remota dalla nostra non so quanto se pensiamo poi che quell'assedio è anche direttamente la causa della rivoluzione parigina della comune di Parigi perché Parigi resiste all'assedio prussiano ed è la popolazione di Parigi che vuole resistere sono gli operai dei quartieri di Parigi Est che vogliono resistere perché trovano vergognoso lasciare entrare i tedeschi in città quando invece il governo repubblicano che è il governo di una repubblica conservatrice e reazionaria non vede l'ora di far la pace con i prussiani consegnare la città calare le brache diremmo noi oggi ecco e farla finita e proprio dal fatto che la popolazione è assediata incredibilmente perché noi pensiamo sempre che la popolazione assediata non ne possa più e invece i parigini rifiutano la resa e vogliono andare avanti e da lì nasce poi la rivoluzione della comune e avvicinandoci a noi Duccio l'ha già detto ma ripetiamolo l'assedio di Leningrado una delle pagine cruciali della seconda guerra mondiale è uno dei momenti più spaventosi e più gloriosi al tempo stesso nella storia di quel paese terribile ma anche straordinario che è stata l'Unione Sovietica e poi ancora naturalmente l'assedio di Sarajevo l'assedio di Sarajevo per carità è già passato un quarto di secolo però come dire è storia recente è una ferita recentissima e potremmo aggiungerne altri eh d'annunzio a fiume che si fa assediare dalle forze regolari prima di decidere a rinunciare alla sua impresa e naturalmente l'assedio dell'Alcazar che già Duccio ha citato che come dire è poi un po' passato nell'ombra perché ad essere assediati erano i cattivi e come dire nell'Italia fascista quell'assedio è stato promosso come un grande glorioso momento e a suo modo lo è stato naturalmente anche se ad essere assediati erano i franchisti allora tutto questo fa parte ancora della storia contemporanea fa parte delle possibilità future ecco non dobbiamo nascondercelo e aver analizzato in questo libro così tanti problemi così tante situazioni così tanti lati ecco di questa situazione e aver fatto vedere che al di là delle differenze di cultura di tecnologia in realtà le costanti sono forse la cosa più importante ecco questo davvero ci insegna qualche cosa che vale la pena di aver imparato direi grazie professor Barbero certi assedi fanno parte delle possibilità del futuro come ci ha sottolineato basti pensare alle liti tra destra e sinistra contemporanee proprio sul festeggiare o meno la ricorrenza della comune in Francia sono molto curiosa di ascoltare il professor Musar che ha riconosciuto nel libro di Duccio Balestracci un'impostazione balestracciana allora il neologismo è fantastico per la spiegazione mi rimetto a lei sì intanto buonasera a tutti spero che mi sentiate e saluto tutti i presenti i presidenti delle accademie il professor Balestracci il professor Barbero e ringrazio la dottoressa Minardi per la presentazione sì io ho definito questo libro che ho letto con estremo piacere balestracciano ma perché io sono cresciuto su libri del professor Balestracci oltre che su quelli del professor Barbero naturalmente e questo libro è un libro prettamente motivazionale innanzitutto che ha secondo me le sue radici già in quel Giovanni Acuto che uscì ormai parecchi anni fa questa è la mia modesta posizione perché motivazionale perché è uno di quei libri che è in grado di come dire penetrare nella coscienza di giovani storici quale io spero di appartenere ancora come categoria e di ispirarli a studiare ad approfondire una materia che sino ad oggi insomma diciamo così la storia militare in generale non è stata poi ancora così approfondita se non negli ultimi anni quindi innanzitutto questo è un libro motivazionale uno di quei libri che riesce a mettere la carica uno di quei libri che io darei da leggere ai miei giovani studenti come faccio con altri libri del professor Ballestracci a partire da Terra Ignota e Strana Gente per esempio dopodiché io direi che questo è un libro molto ardito per le cose che sono già state dette che brevemente vorrei riprenderle per andarle a spiegare e spiegare innanzitutto a chi ci ascolta qual è questa prospettiva Ballestracciana di cui vi sto parlando naturalmente senza nulla togliere al diretto interessato che vogliamo ascoltare su questo beh il primo elemento lo avete già citato è sicuramente l'impianto cronologico un impianto cronologico che parte da Troia che scopriamo non essere poi così quell'archetipo che ci immaginiamo quantomeno dal punto di vista polemologico ma che sicuramente riprende alcuni assedi del passato del passato classico io confesso quando ho ricevuto ho iniziato a sfogliare questo libro mi sono messo come sfida a contare gli assedi dopo un po' arrivato a metà libro non ce l'ho più fatta nel senso che erano veramente veramente tanti e la mia lista continuava ad allungarsi sino partendo quindi di fare dal 520 avanti Cristo si cita a Babilonia per passare a Iota Pata all'assedio di Gerusalemme per proseguire poi con la grande stagione della guerra greco-gotica nel VI secolo e poi l'assedio di Parigi dell'870 e le guerre del Barbarossa nel XII secolo e quelle di Federico II nel secolo immediatamente successivo e poi le lotte tra comuni del II-III e poi il grande IV-III e il pericolo turco vi troviamo dentro il 1453 la caduta di Costantinopoli così come l'assedio di Otranto del 1480-81 e poi si prosegue avanti nel Cinquecento con quelli che sono forse i due episodi principali che ritornano molto spesso nel libro l'assedio di Firenze del 29-30 e poi l'assedio di Siena che è già stato menzionato della metà del secolo e si va ancora avanti nel Seicento e nel Settecento con l'assedio di Torino 1706 e il famoso Pietro Micca e poi si prosegue fino come è stato detto all'assedio di Parigi per arrivare poi a Sarajevo e addirittura a Cobane ecco quindi un impianto cronologico lunghissimo questo è il primo elemento ma senza una tassonomia come è stato detto non c'è una classificazione degli assedi il secondo elemento che contraddistingue un po' questa questa prospettiva è appunto l'interesse l'interesse il fuoco il fulcro del volume la prospettiva stereografica noi non troviamo il riflesso ossidionale che è il tema classico su cui la medievistica a partire dai giustamente valorizzati studi di Aldo Settia si è soffermata non lo troviamo se non nel primo capitolo che è un capitolo introduttivo il discorso si centra prettamente sullo stato da assedio cioè sul punto di vista psicologico come si vive in stato d'assedio sia come assediati sia come assedianti come si reagisce a quella che è una catastrofe e allora la risposta non può che provenire da un'analisi psicologica se vogliamo io ho la fortuna di avere una moglie psicologa che mi ha spiegato leggendo anche lei il libro alcuni punti molto interessanti leggendo i primi capitoli sembra di trovarsi di fronte a un libro per così dire comportamentista comportamentismo è una famosa corrente che studiava in particolar modo lo stimolo e la risposta allo stimolo e una corrente psicologica che è stata poi avversata sia dall'approccio psicoanalitico che tutti conosciamo quello che scende nel profondo sia da una ulteriore corrente che è quella cognitivista che invece cerca di cogliere quello che c'è nel mezzo cioè tra lo stimolo e la risposta c'è l'essere umano e c'è la mente umana i comportamentisti la faccio semplice non mi vogliono coloro che ci ascoltano i comportamentisti ritenevano che tra lo stimolo e la risposta ci fosse una black box una scatola nera inconoscibile i cognitivisti invece ritengono e ritenevano che invece questa scatola fosse possibile aprire con gli strumenti delle neuroscienze della neurofisiologia ora è chiaro che non è questo il caso però quello che noto è che Duccio Balestracci non si ferma all'analisi dei comportamenti ma cerca di studiare i comportamenti all'interno della mentalità nella quale quei comportamenti si sono sviluppati e lo fa quindi secondo il mio modesto parere inserendosi in quella corrente storiografica che oggi abbiamo un po' perduto ma che dovremmo forse insomma rinvigorire che potremmo definire storia delle mentalità con tante virgolette perché perché per molti motivi cioè la storia degli atteggiamenti mentali nei confronti degli eventi della vita negli eventi della vita e allora chiudo questa mia breve riflessione generale diciamo così proprio cercando di evidenziare quello che è il metodo Balestracci il metodo che Duccio utilizza in questo libro come cogliere questi atteggiamenti mentali e qui la risposta attraverso l'allargamento della cronologia l'assedio di Sarajevo qualcosa che io ricordo ero bambino ma lo ricordo molto bene mi ricordo che chiedevo ai miei genitori le motivazioni noi abbiamo tanti studi e tante testimonianze sull'assedio di Sarajevo alcune di queste testimonianze soprattutto sono state studiate da antropologi antropologhe che sono citate nel volume di Balestracci ebbene Duccio Balestracci utilizza in maniera molto oculata gli assedi più recenti più vicini a noi per sfruttare lo strumento dell'analogia e allora attenzione qui abbiamo di fronte un libro motivazionale abbiamo di fronte un libro però anche molto ardito perché lo strumento dell'analogia è uno strumento estremamente complesso che solo un grande maestro lasciatemelo dire come Duccio Balestracci può pensare di padroneggiare quello cioè di andare a cogliere l'esistenza di queste costanti tra periodi storici completamente diversi tra di loro cosa voglio dire è chiaro che esistono ce lo dice la psicologia ce lo dice già Darwin le emozioni primarie la paura dell'assediante e anche quella del anzi la parola dell'assediato ma anche quella dell'assediante sono emozioni primarie ma solo un maestro riesce a comprendere come queste emozioni si declinino a livello di categorie mentali in periodi storici così differenti tra loro per questo dico il libro di Duccio Balestracci da questo punto di vista è un libro estremamente esemplare in cui si compie un'operazione ardita ma la si compie con una grande una grande abilità evitando quello che è lo spauracchio di tutti gli storici che è l'anacronismo e questo Duccio lo fa e di questo dobbiamo rendergli merito grazie intanto del suo intervento purtroppo queste modalità per quanto ne siamo ormai diventati più o meno pratici non ci aiutano non favoriscono molto la discussione quindi professor Barbero forse anche l'onorevole Barzanti sentitevi assolutamente liberi di intervenire di sottolineare o essere in disaccordo non so con quanto è stato detto altrimenti io vado avanti e chiamo in causa di nuovo il nostro autore perché mi piacerebbe affrontare un altro tema intanto per chi si fosse collegato in questo momento stiamo presentando stato di assedio edizione Munino Bruccio Balestracci non c'è assedio che non si porti dietro una pestilenza forse di questi tempi è un fatto interessante da evidenziare dall'Iliade che si apre con una pestilenza i crociati decimati dall'epidemia sotto le mura di Acri ma succede a Firenze succede a Givinterra succede nella mia Siracusa nel 212 a.C. quando l'esercito romano guidato da Claudio Marcello unisce la città che ha appoggiato Cartagine e probabilmente anche perché è una città troppo smaniosa di libertà professore Balestracci può parlarci di questo aspetto di questa correlazione tra assedio e pestilenze è una correlazione quasi automatica non c'è niente di automatico in storia ben inteso ma ora non mi metto a smanettare come uno scemo facendo le virgolette perché lo stato di assedio presuppone necessariamente tutta una serie di abbassamenti delle difese immunitarie di abbassamenti dei livelli igienici guardiamo in maniera diversificata chi assedia e chi è assediato io come ho insistito molto nel libro continuo a dire che anche chi assedia se la può passare veramente male può avere veramente dei problemi molto grossi ma ci ritorno fra un attimo restiamo all'interno della città assediata che cosa vuol dire una città assediata vuol dire una città nella quale logicamente incomincia a rarefarsi la disponibilità di cibo questo è ovvio in cui non di rado si creano problemi anche per l'approvvigionamento idrico per esempio parlando dell'assedio di Siena gli imperiali fiorentini cercano di tagliare le condotte di acqua sotterranea quelle che qui si chiamano i bottini per togliere l'acqua alla città ma questo avviene dappertutto in tutti i casi si cerca appunto di tagliare l'approvvigionamento delle acque quindi manca il cibo manca l'acqua e manca l'acqua per l'igiene in più una città assediata è una città nella quale concorre una quantità di popolazione che non è soltanto quella della città vera e propria ma molto frequentemente anzi quasi di regola tutti i contadini delle campagne immediatamente circostanti alla città si rifugiano dentro le mura però vi ragioni perché logicamente le loro terre le loro case i loro campi i loro orti sono occupati da chi assedia questo significa alzare in maniera drammatica il livello di densità demografica all'interno di un insediamento faccio ancora un esempio preso appunto dalla guerra di Siena non lo faccio per campanilismo ben inteso però lo faccio perché la guerra di Siena l'assedio di Siena la guerra di Siena che poi non finisce nel 55 ma continua nella Val d'Orcia nella Maremma fino al 59 sono stati definiti non da me ma da altri storici uno degli assedi e delle guerre più disastrose fra il medioevo e l'età moderna bene quando Siena capitola nel 1555 ma non capitola una parte del territorio che fa centro sulla città di Montalcino beh le testimonianze montalcinesi dell'epoca dicono che c'è tanta di quella gente dentro Montalcino che non si riesce quasi a passare per le strade questo porta inevitabilmente a un abbassamento dei livelli dei livelli igienici non dimentichiamoci che ovviamente poi c'è un altro problema che va a sovrammettersi a questo ovvero sia la difficoltà a smaltire la difficoltà a smaltire i cadaveri e a smaltire le carogne degli animali degli animali morti tutto questo comporta un livello di pericolosità estrema non ci dimentichiamo che gli assedi a volte sono combattuti anche attraverso le armi che potremmo definire biologiche sappiamo perfettamente tutti e non vale la pena di insisterci che la grande peste del 1347 e 1351 nasce a Caffa oggi in Crimea quando i mongoli tirano dentro la città i cadaveri appestati sappiamo perfettamente che in alcune in alcuni casi c'è un assedio di Napoli per esempio in cui vengono mandate dentro la la città delle delle prostitute che sono già infettate non dalla peste ma da malattie venere per abbassare ovviamente i livelli di difesa degli assedianti ci sono casi in cui vengono mandate dentro la città prostitute che a loro insaputa poverette vengono abbigliate con abiti appestati in modo che diventano delle vere e proprie kamikaze incoscienti kamikaze biologici quindi che questo comporti un livello di crescita delle malattie è normale però attenzione perché questo avviene anche nel campo degli assedianti siamo a Firenze nel 1529-30 e i fiorentini assediati cercano di mandare nel campo degli assedianti ancora una volta delle prostitute appestate cercando di infettare almeno così racconta la leggenda poi non si sa se questo sia stato vero o no perché in realtà poi i casi di peste avvengono anche dentro la Firenze assediata quindi è molto probabile che siamo in presenza di malattie epidemiche attenzione non ci dimentichiamo che all'epoca si gabella per peste anche quello che poi in realtà è altro tipo di epidemia pesti tifoidee pesti di malattie di tipo gastroenterico e quanto di altro quindi che questo accompagni regolarmente gli assedi è quasi un contrapunto scontato del quale fanno le spese quelli di dentro e quelli di fuori che come ho detto non se la passano molto meglio in certi casi di quelli di dentro non ultima ragione perché anche quelli di fuori hanno problemi pratici che sono problemi degli alloggiamenti se un assedio l'assedio si pone meglio porlo di primavera come abbiamo detto benissimo ma se il blocco si protrae a lungo l'inverno c'è per quelli c'è per quegli altri e non è che gli uni se la passano meglio degli altri il problema dell'approvvigionamento si pone per gli uni e per gli altri perché anche chi assedia a un certo punto deve provvedere all'approvvigionamento e non sempre è facile è facile trovarlo proprio per l'assedio di Siena del 55 in questo caso 1555 il comandante del contingente francese Biagio di Monluc scrive nei suoi commentari se in quell'inverno avesse fatto neve gli imperiali fiorentini sarebbero stati costretti a togliere il blocco perché non ce la facevano più nemmeno loro per l'appunto in quell'inverno non nevicò come scrivo nel libro e quindi la storia prese tutta un'altra curvatura in quell'assedio di Siena è terribile la rievocazione di quanto accadde il mio amato Santa Maria della Scala con i gittatelli considerati bocche inutili in una situazione critica appunto come quella subirono un destino terribile professor Barbero non è una faccenda dicevamo prima in questo libro per esperti militari non è neanche una faccenda solo da uomini su questo l'autore si sofferma abbastanza nel sottolineare il ruolo delle donne a combattere nelle città assediate da Gela a Platea e non soltanto come sentinelle ma proprio combattenti c'è un'espressione che mi sono appuntata di Monluc che lui riporta e dice sarò sempre più sicuro di poter difendere Siena con le sole sue donne piuttosto che difendere Roma con i romani di oggi è una faccenda da donne l'assedio ebbene sì è una faccenda che coinvolge le donne come dire è un'evoluzione di quello che accennavamo prima dicendo che l'assedio in tutti fra tutti gli ambiti della storia militare l'assedio è uno di quelli che da sempre hanno coinvolto più direttamente e più integralmente la popolazione civile e la popolazione civile è fatta di donne per metà che ci sono naturalmente ci sono in tutte le epoche le donne costituiscono metà della società in tutte le epoche quale che sia il grado come dire di maschilismo variabile grado di maschilismo delle culture del passato in tutte le epoche comunque le donne sono metà della società e nella vita avevano una visibilità enorme che noi rischiamo di perdere di vista perché noi ovviamente quel mondo lo guardiamo attraverso le nostre fonti e le fonti scritte già quelle iconografiche sono diverse già nelle immagini negli affreschi nelle miniature le donne sono presenti quanto gli uomini perché è quello che uno avrebbe visto se si fosse aggirato nel mondo del passato e invece le fonti scritte per loro natura hanno tendenza a illuminare quelle faccende di cui si occupavano gli uomini e quindi gli affari la politica la guerra e non le faccende di cui si occupavano le donne dopodiché appunto le donne c'erano e l'assedio è uno dei momenti in cui le si vedono venire in primissimo piano e sono contento che mi abbia chiesto questo perché era una delle cose che mi ero segnato e che contavo di sottolineare fra le ricorrenze che Duccio ha dimostrato cioè fra le tante i tanti aspetti che si rivelano molto simili attraverso i secoli direi addirittura attraverso i millenni nel momento in cui una città o una località si trova sotto assedio e precisamente questo coinvolgimento delle donne naturalmente non dimentichiamo che le donne saranno coinvolte drammaticamente anche nel momento in cui l'assedio gli assedianti irromperanno in città e lì come dire vero è che in tanti casi raccontati da Duccio l'assedio si conclude con lo sterminio dei maschi e la violenza e la vendita in schiavitù delle donne anche in questo le società antiche si ostinavano a trattare diversamente uomini e donne era una cosa che loro avevano ben radicata in testa il fatto che uomini e donne sono due componenti diverse della società e che vivono diversamente e gli succedono cose diverse dopodiché appunto in realtà questa cosa si rompe in gran parte nel momento in cui la città si difende nel momento in cui la città è assediata e tutte le energie disponibili devono essere impiegate ben inteso in certi casi si parla di donne che prendono le armi e questo è qualcosa che veramente per i nostri antenati era scioccante e dimostra la situazione estrema in cui veniva a trovarsi una città assediata mi sembra importante sottolineare se vogliamo continuare a fare il lavoro che noi storici dobbiamo fare e cioè capire come erano i nostri antenati come ragionavano capire come ragionavano loro e non forzare l'immagine del passato alla luce dei nostri ideali di oggi e dei nostri valori di oggi ecco noi non oggi lo dico perché come dire nell'immaginario sul passato oggi tende a serpegire la cosa fondamentale in cui noi siamo impegnati cioè dimostrare la parità realizzare la parità fra uomini e donne e realizzare una società in cui davvero uomini e donne abbiano la stessa possibilità di fare qualunque cosa ci induce come dire per ottimi motivi ben inteso no a creare una certa forzatura quando ci immaginiamo in passato e così nelle serie di Netflix ormai non c'è orda di barbari o equipaggio di vichinghi fra i quali non sia presente anche una guerriera la quale peraltro è messa sotto i riflettori senza troppo chiedersi come mai ci sono lei che fa la guerriera e le altre donne allora ecco ma comunque questa è una forzatura assoluta le guerriere non esistevano ma nel momento in cui l'intera popolazione di una città è coinvolta in quella lotta all'estremo la cui partita è la vita o la morte di tutti loro allora effettivamente è impressionante come tutte le fonti ci fanno vedere che le donne non si tirano indietro e sono coinvolte in pieno ben inteso mi sembra di poter dire ma Duccio lo sa meglio di me io il libro lo sono letto lui l'ha scritto e quindi chiediamo a lui conferma mi sembra di poter dire che appunto sono minoritari i casi in cui le donne sono sulle mura a combattere mentre invece è assolutamente regolare il fatto che le donne forniscono un appoggio un'assistenza un sostegno logistico fondamentale non soltanto negli ambiti in cui ci si aspettava che le donne fornissero un servizio portare da mangiare portare da bere curare i feriti ma anche facendo qualcosa di molto più pesante che normalmente non aspettava a loro nella concezione dell'epoca e cioè quindi apportando pesi portando materiali ammassando le pietre ripulendo le macerie ecco in tutto questo le donne sono sempre coinvolte è davvero una situazione che va al di là delle differenze enormi fra una cultura e l'altra un'epoca e l'altra quindi su questo aspetto poi ce ne sono altri di cui potremo parlare quando volete perché ci sono diverse di queste come dire analogie come ha detto giustamente Musarra di queste analogie che si ripetono ciclicamente attraverso le epoche ed è uno degli aspetti più importanti del libro secondo me per adesso mi fermo perché questo è quello che effettivamente anch'io avrei messo in luce per primo questo ruolo delle donne nelle città sediate scusate maestra ci vuole aggiungere qualcosa a lei altrimenti cominciamo a scandagliarle queste analogie ecco non la sentiamo o faccio una cosa o faccio l'altra o parlo o accendo il microfono non c'è versi a 72 anni i neuroni ti fanno ciao e quindi addio dicevo aggiungo soltanto questo sulle donne che è un tema sul quale mi sono volutamente soffermato molto perché è un po' paradossale come dire la narrazione che la donna crea nel caso delle guerre nel caso degli assedi nel caso degli assedi le donne hanno un ruolo fondamentale sì certo dal punto di vista logistico perché sono quelle che portano il cibo ai soldati sulle mura ma sono quelle che fanno anche lavori pesanti quando c'è da risistemare le fortificazioni che hanno subito danni e così via ci sono le donne che fanno i turni di sentinella non so se se l'aveva inventato Biagio di Monluc ma c'è una pagina Biagio di Monluc se l'ha inventata mezza il racconto della storia della guerra di Siena se l'ha inventato mezzo o forse anche più di mezzo ma c'è una pagina molto bella di una donna di una ragazza che sostituisce il fratello che sta male si veste di tutto punto e riconoscono che è una ragazza soltanto al momento del cambio della guardia alla mattina perché si accorgono che è una donna le donne combattono le donne scrivono epopee le donne scrivono epopee di tipo antropologico pensate soltanto alla descrizione dell'assedio di Ancona Ancona che resiste al Barbarossa e ai veneziani alla descrizione che ne fa nel primissimo 200 un personaggio come appunto Buoncompagno della Siena è una descrizione antropologicamente interessante perché perché le donne di Ancona a un certo punto quando la città non ce la fa più dicono agli uomini ammazzateci buttateci in mare oppure mangiateci e almeno sopravviverete voi si capisce perfettamente che nella pagina Buoncompagno della Siena come ci sia questo circuito di tipo antropologico la donna che è quella che crea la vita è anche quella che crea metaforicamente un'altra vita consentendo la sopravvivenza agli uomini facendosi mangiare facendosi cannibalizzare qui si entrerebbe in tutto il discorso a metà strada fra l'antropologico e la leggenda metropolitana del cannibalismo dell'antropofagia negli assedi ma non è questo il punto le donne combattono c'è una cosa interessante che quando le donne nell'Alcazar de Toledo si propongono di combattere i comandanti della difesa dell'Alcazar dicono no non è un atteggiamento da gentil donne la donna non può prendere l'arma e combattere quindi anche da questo punto di vista ci sono delle riflessioni da fare ma le donne soprattutto scrivono queste pagine di epopea fin quando siamo in stato di necessità scrivono pagine di martirio quando la città viene viene espugnata perché purtroppo le donne e i bambini sono carne da stupro regolarmente carne da stupro con delle descrizioni e delle pagine che vi posso assicurare che quando sono arrivato a maneggiarle in certi in certi casi lo stomaco si faceva si faceva piccolo come un cece era veramente raccapricciante però la cosa che a me è interessato sottolineare è questa le donne che scrivono l'epopea le donne che sono le vittime le martiri sacrificali dell'assedio è andato male appena è finita l'emergenza le donne rientrano nel cono d'ombra rispariscono nuovamente hanno una visibilità in concomitanza con questa con questa eccezionalità che è la guerra e lo stato d'assedio con tutto quello che comporta al momento poi in cui questa finisce si torna virgolette alla normalità rispariscono nuovamente anche le donne e come ho scritto nel libro con un termine volutamente sottolineativo ritornano ad essere solo donne è stata una riflessione che mi ha mi ha veramente coinvolto molto lo dico lo dico senza senza enfasi quello delle donne e dei bambini sacrificati mi ha veramente coinvolto moltissimo grazie professore allora proseguiamo su questa strada quella appunto delle analogie nelle modalità attraverso le quali avviene la presa di una città il ruolo delle donne c'è una presa per fame per sfinimento c'è una presa per tradimento con infiltrazioni dei spie traditori appunto ma si indeboliscono gli spiriti anche con la controinformazione con le fake news con la disinformazione con il dileggio degli avversari su questo mi piacerebbe che ci dessero un po' il loro contributo il professor Musarra prima e poi di nuovo si avvolga il professor Barbero sì certamente come Duccio Balestracci come Duccio spiega molto bene nel volume la guerra ha di per se stessa un aspetto psicologico è una guerra psicologica è una guerra d'assedio volta a innanzitutto a demotivare e a scoraggiare il nemico e questo lo si fa attraverso tecniche che analogicamente troviamo effettivamente in moltissimi assedi dell'antichità del medioevo dell'età moderna e contemporanea sono tecniche che fanno perno beh soprattutto sulla sulla sensibilità sui sensi potremmo dire a partire dal rumore dal rumore assordante un rumore continuo un rumore che è incessante che non permette il sonno e che incute naturalmente timore paura ne abbiamo tantissimi esempi di sin ad esempio cito un assedio che io ho studiato molto bene che è quello della presa la presa di acri del 1291 che ha inizio con un rullo continuo di tamburi da parte dei mamilucchi egiziani che vogliono conquistare l'ultima roccaforte crociata di terra santa e lì abbiamo i tamburi ma immaginiamoci due secoli dopo quando invece con l'avvento delle artiglierie questo rumore si trasforma in un rumore assordante di palle di bombarde di palle di cannone di cannoneggiamenti continui a cui si aggiungeranno poi archivugi moschetti nei secoli immediatamente successivi quindi questo è un primo elemento abbiamo poi tanti altri elementi beh certamente quello che è stato già citato le violenze gli stupri nei confronti di coloro che sono colti al di fuori delle delle mura assediate o che magari sono usciti o per una sortita oppure per semplicemente per ricercare il cibo quotidiano e dunque l'elemento della crudeltà in cui dice Duccio in una pagina splendida le teste hanno generalmente un ruolo d'onore e possiamo anche immaginare in che maniera teste divelte ed esposte a bella posta di fronte al nemico in modo da fare da avvertimento e da far comprendere quale possa essere la fine dell'assediato e costringere dunque l'assediato a mollare a mollare a chiedere la resa all'interno di questo gioco abbiamo dunque tutta una serie di personaggi che sfruttano questo stato anche di eccitazione continua e perenne per apportare ulteriore confusione contro informatori spie a cui finisce generalmente male nel momento in cui sono catturati dal nemico un esempio proprio nel corso dell'assedio di Firenze del 1529 1530 riferimento al famoso personaggio quel Francesco Ferrucci che troviamo citato nell'inno di Mameli ogni uomo di Ferruccio ha il core alla mano è il personaggio che è stato magnificato dalla storiografia risorgimentale magari Duccio che è autore anche di un bellissimo libro sempre per il per il mulino relativo al Medioevo nel risorgimento ce ne potrà parlare Medioevo inteso in senso lato legoffianamente e questo ferruccio eroe vile tu uccidi un uomo morto eppure si macchia della cosiddetta mala guerra nel momento in cui uccide un ambasciatore un tamburino un povero tamburino nonostante lo sappiamo tutti ambasciatore non porta pena no? quindi c'è anche questo elemento e poi c'è un terzo elemento che fa parte di questo assedio ai nervi come lo chiama Duccio i famosi per citare Schizzerotto sberleffi di campanile sberleffi di campanile di che cosa si tratta? sono insulti reciproci che hanno una gamma di veramente eccezionale si va appunto dai di leggi dal disprezzo del pericolo sino al costruire veri e propri giochi sotto le mura in modo da mostrare appunto quanto si sia forti pali corse e poi ovviamente insulti insulti verbali e poi c'è anche delle simboliche prese di possesso penso ad esempio all'atto di fare un cavaliere sotto le mura nemiche oppure alle famose coniazioni per dispetto che hanno luogo in territorio nemico siconia monita per dimostrare che quel territorio ormai lo si è conquistato ed è di propria proprietà ecco si può fare su quel territorio ciò che si vuole ecco tutti questi aspetti concorrono a scandire le giornate d'assedio che a volte possono essere lunghissime terminare mai fino a che non si decide o di cedere oppure da parte degli assedianti di procedere all'assalto finale mi state tutti aspettando che intervenga io prego professore va bene di nuovo il mezzo che usiamo crea un po' questo schermo inevitabilmente sì no indubbiamente il tema della guerra psicologica delle pressioni di vario genere e degli stratagemmi con cui si cerca di convincere di convincere la città gli assediati ad arrendersi o al contrario di quelli di quegli stratagemmi e Duccio li racconta in modo mirabolante gli stratagemmi con cui chi è dentro la città cerca invece di convincere quelli di fuori che in città si sta benissimo che abbiamo di tutto che il pane lo possiamo anche dar da mangiare agli animali ecco e quello è un catalogo veramente memorabile che emerge da questo libro e in effetti una delle cose che mi hanno colpito leggendo questo libro è che mi sono reso conto di quante volte avevo incontrato anch'io degli assedi nel corso dei miei lavori delle mie ricerche dei libri che ho scritto tante volte senza quasi farci caso ma ti rimangono però impressi degli episodi nel campo della guerra psicologica mi viene in mente per esempio la storia meravigliosa dell'assedio di Tiro siamo siamo intorno al 1190 il Saladino ha sbaragliato l'esercito del re di Gerusalemme alla battaglia di Pattin ha catturato tutti quanti ha catturato il re Guido di Lusignano i miei interlocutori i miei colleghi qui la sanno fin troppo bene questa storia ma ovviamente la racconto per chi magari non la conosce e il Saladino assedia Tiro dove si è rinchiuso Corrado di Monferrato arrivato lì rocambolescamente è diventato rapidamente l'anima della difesa perché un'altra caratteristica dei racconti di assedio è che molto spesso sottolineano il ruolo decisivo di un leader il quale con la sua sola presenza con il suo esempio con la sua carisma ha saputo appunto tenere in piedi le difese in questo caso il leader carismatico è Corrado di Monferrato giovane principe appena arrivato dall'Europa il Saladino fra i molti prigionieri che ha fatto alla battaglia di Hattin ha catturato anche il vecchio marchese Guglielmo di Monferrato il padre di Corrado e dato che Corrado resiste e Tiro non si arrende il Saladino alla fine si lascia come dire decide di attuare una forma di pressione psicologica non particolarmente cavalleresca ma insomma ci sono dei momenti in cui veramente quello che puoi fare lo fai ecco senza farti tanti scopoli e quindi il Saladino porta sotto le mura di Tiro il vecchio marchese Guglielmo padre di Corrado e chiama Corrado sulle mura e gli ordina di arrendersi perché altrimenti lui sotto i suoi occhi ucciderà suo padre e lì c'è la memorabile risposta di Corrado di Monferrato in quale risponde mio padre ha già vissuto abbastanza a questo punto di fronte a questo il Saladino si ricorda di essere un gentiluomo e dice vabbè no lasciamo perdere alla fine non mette a morte il vecchio marchese e l'assedio continua insomma cose di questo genere saltano fuori continuamente nella storia degli assedi ne saltano fuori continuamente nel libro di Duccio e ci ricordano appunto come lo stato d'animo della gente sia la cosa veramente decisiva ben inteso è decisivo anche nelle battaglie Clausewitz ci ha insegnato una volta per tutte che le battaglie non si vincono ammazzando i nemici si vincono convincendo i nemici che hanno perso che non vale più la pena di continuare a resistere è il crollo psicologico quando viene meno la volontà di continuare perché non ci credi più ecco che fa vincere le battaglie e che fa vincere gli assedi e questo è il motivo per cui un tema anche interessante che emerge dal libro è come dire lo sforzo che si fa dentro una località assediata per conservare certi parametri di normalità ecco una cosa interessantissima di cui io avevo sentito parlare e di cui vorrei sapere molto di più per esempio è il fatto che nelle città assediate le autorità continuavano a pagare i salari per esempio continuavano a pagare i salari e quando a un certo punto il denaro era finito ci sono casi in cui durante un assedio molto lungo si conia moneta in città la moneta d'assedio che non può essere fatta ovviamente d'oro o d'argento perché i metalli preziosi sono finiti e quindi è moneta come dire che viene accettata dalla gente vabbè viene accettata perché non possono fare a meno di accettarla naturalmente ma il concetto è quando avremo vinto tutta questa moneta d'assedio noi la rimborseremo in moneta buona no ecco e questo per i numismatici è un tema molto specifico delle loro delle loro ricerche che io trovo appunto estremamente affascinante la moneta d'assedio l'altra cosa da sottolineare dal punto di vista psicologico ma Duccio lo ha già detto e sottolineato lo riprendo perché è davvero importante è che anche per gli assedianti la situazione è drammatica certo dentro c'è più paura collettiva una paura che si ingigantisce nel momento in cui si lascia troppo libera l'immaginazione e si comincia a pensare ma cosa succede se quelli entrano ecco c'è una scena bellissima pochi secondi in uno dei film della serie del Signore degli Anelli in cui si vede questa immensa città assediata da un ancora più immenso esercito di mostri orchetti e altro e questi a un certo punto prima di dare l'assalto cominciano a battere le loro armi sul terreno tum 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 centinaia milioni di mostri che battono ritmicamente e c'è un attimo solo in cui si fanno vedere le facce delle donne e dei bambini rifugiati nelle cantine dentro la città no? all'idea di cosa c'è fuori che rischia di traboccare dentro però appunto se questo terrore estremo quelli di fuori non ce l'hanno però sono di fronte alla morte continuamente e per di più a una morte orrenda perché se si va all'assalto si viene bruciati vivi in mille modi ecco e comunque di fronte alla morte perché gli assedi erano forse addirittura più sanguinosi delle battaglie campali una cosa che mi ha colpito moltissimo in questi ultimi tempi quando non pensavo affatto che sarebbe uscito il libro di Duce e che ci saremmo trovati qua a parlarne ma io negli ultimi anni ho letto per la prima volta in vita mia Saint-Simon le memorie di Saint-Simon memorie quindi della corte del Re Sole ultimo decennio del Seicento i primi 15 anni del Settecento dove si parla continuamente delle guerre in cui il Re Sole era continuamente impegnato e in cui tutta l'aristocrazia francese versava un ininterrotto tributo di sangue perché in tutte le famiglie c'erano ufficiali e questi ufficiali morivano molto facilmente in guerra e Saint-Simon cita continuamente sapete come sono fatte le memorie lui menziona continuamente delle persone è un immenso catalogo di personaggi e continuamente a lui capita di dire che ne so è stato nominato comandante dell'armata il tenente generale de Fontenay quello il cui padre era stato ucciso nel 1676 all'assedio di Valenciennes oppure è morto il marchese tale ha lasciato solo un figlio ne aveva tre ma il primo è stato ucciso all'assedio di Mons e il secondo è stato ucciso all'assedio di Lilla ecco poi vengono anche uccisi delle battaglie naturalmente delle tante battaglie sanguinosissime ma con grande frequenza e grande normalità diciamo così ecco nel mondo di Saint-Simon di un grande nobile della corte del Re Sole è normale conoscere un sacco di gente il cui destino è stato di essere ammazzato durante una battaglia o durante un assedio ecco il che significa che appunto la pressione psicologica doveva essere molto forte anche sugli assedianti e questo ci fa vedere come sia tutto concatenato in realtà perché quell'aspetto che a noi fa orrore e su cui ci siamo già soffermati a lungo quello che succede quando la città è presa noi storici che abbiamo il compito di dare voce alla gente vissuta nel passato e di capire che gente era abbiamo anche il dovere di dire che i soldati che erano fuori non aspettavano altro che quel momento erano disposti a rischiare di farsi ammazzare dando l'assalto alla breccia perché mentre se la città si arrendeva normalmente gli assedianti non avevano diritto di saccheggiarla e poi sappiamo che ci potevano essere come dire si poteva mantenere i patti fino a un certo punto alla presa di Famagosta i turchi oltre al grosso incidente con Marcantonio Bragadin tendenzialmente rispettano i patti nei confronti della popolazione civile non saccheggiano la città i cronisti dicono sì naturalmente le donne le hanno violentate ecco dopodiché quando invece la città è stata presa d'assalto la soldatesca ha diritto di saccheggio ci sono convenzioni precise c'è la tendenza a dire tre giorni e poi basta si può negoziare fra il comandante e la truppa quanto ci lasci saccheggiare e poi il bottino si divide oppure ognuno si tiene il suo e la truppa non aspettava altro e fra quello che la truppa aspettava c'era ovviamente anche poter entrare in una città piena di donne e fare di quelle donne quello che volevano ecco questo come dire questo giustifica il fatto che le truppe erano disposte a fare quella cosa spaventosa che era provare a dare l'assalto a una città assediata il loro la loro psicologia il loro morale è altrettanto affascinante e impressionante da studiare quanto quello di chi stava dentro e chiuderei questo giro ricordando un libro bellissimo un romanzo giustamente Duccio non allarga la sua ricerca alla letteratura a parte Troia in qualche misura alla letteratura che racconta gli assedi un romanzo che magari non tutti conoscono perché di uno scrittore di cui non si parla più tantissimo forse Ismail Cadare grande scrittore albanese che ha scritto un bellissimo romanzo che si chiama I tamburi della pioggia che racconta appunto l'assedio di una fortezza albanese nel Quattrocento da parte di un esercito turco ottomano dal punto di vista essenzialmente degli assedianti e per chi si se vogliamo dare come dire aggiungere un anello a questa catena di discorsi che stiamo facendo chi fosse rimasto affascinato dal libro di Duccio e volesse saperne qualcosa di più sugli assedi al di là della letteratura storiografica la letteratura vera e propria ecco Cadare I tamburi della pioggia una lettura straordinaria grazie grazie anche del suggerimento la vedevo annuire professor Balestracci vuole aggiungere qualcosa a questo ragionamento sullo stato d'animo fiaccato alla condizione nella quale avviene la resa oppure riservandoci magari un ultimo giro di tavolo virtuale sul ritorno alla normalità preferisce che sottolineiamo altri aspetti molto velocemente perché il tempo sta passando e stiamo già parlando da molto da molto tempo preferirei soffermarmi velocissimamente sul tema del ritorno alla normalità perché c'è un punto che a me è stato molto a cuore di mettere in evidenza in questo in questo libro ovvero sia la sorte del capitale umano nel caso degli assedi o come mi è capitato di dire in altre occasioni chi sono i sommersi e chi sono i salvati un assedio prima o poi dovrà finire in un modo o in un altro dovrà finire e allora si pone il problema prima di tutto da parte di chi è assediato ma poi vedremo che ci sono anche delle interlocuzioni con gli atteggiamenti di chi assedia della sorte del capitale umano perché è su questo capitale umano su quello che si salva del capitale umano che poi si fa la ricostruzione quando tutto quanto è finito questo logicamente coinvolge chi è assediato ma come ho detto anche chi assedia per esempio sappiamo che quando Maometto II conquista nel 1453 Costantinopoli e la popolazione di Costantinopoli è sottoposta ovviamente a quelle condizioni drammatiche alle quali faceva riferimento giustamente Alessandro Barbero perché Costantinopoli non si arrende a patti viene presa ad assalto e quindi logicamente deve essere devastata e saccheggiata ci sono delle considerazioni interessanti da fare perché Maometto II salva dalla sorte di schiavi di prigionieri o salva dalla morte le maestranze specializzate quelle maestranze che gli consentiranno poi di ricostruire la nuova Costantinopoli ormai non più Costantinopoli ma Istanbul come la conosciamo oggi o quelle maestranze che prese appunto dalla città sconfitta vengono poi da lui adibite alla canteristica adibite a tutta una serie di altre funzioni fondamentali strategiche per il suo regno Tamerlano che conquista Delhi sottrae la popolazione di Delhi la popolazione maschile di Delhi alla strage che invece coinvolge il resto della popolazione sottrae quella parte di popolazione che è fatta di maestranze specializzate perché le prende e le manda a Samarkanda a costruire quegli edifici che fanno parte dell'epopea timuride e appunto del modo in cui viene magnificata la sua epoca e il suo regno quindi il discorso del capitale umano è un capitale fondamentale e questo problema del capitale umano si ritrova e la faccio velocissimamente perché ci porterebbe troppo lontano in un aspetto che è già stato evocato durante la discussione cioè quello delle bocche inutili le bocche inutili sappiamo perfettamente che cosa sono sono quelle persone che non servono alla difesa i giovani i bambini quelli che non possono essere utilizzati le donne in moltissimi casi che non possono essere utilizzati per la difesa e allora vengono allontanati dalla città o dall'insediamento è una cosa che si ritrova già postulata e prevista dagli strateghi dell'antichità e che va avanti tranquillamente fino all'età moderna ne parla Richelieu e così via beh quando la faccenda si fa tragica il problema delle bocche inutili diventa un problema anche di selezione del capitale umano perché dopo che ci siamo disfatti dei bambini dopo che ci siamo disfatti delle donne dopo che ci siamo disfatti dei vecchi che non servono bisogna cominciare a disfarsi eventualmente se si vuol provare a resistere anche di persone che sono invece persone abili al lavoro e che hanno delle competenze tecniche e allora che succede prima si buttano fuori quelli che fanno diciamo così dei mestieri artigiani che fanno dei mestieri che non sono considerati indispensabili strategici quelli che fanno cose superflue di lusso o che non servono a tutti e poi però si incomincia a mettere le mani sul resto della popolazione e lì incominciano i problemi perché lì incomincia il problema di chi selezionare di chi salvare e di chi condannare è un problema molto grosso ed è un problema sul quale le città assediate soprattutto le città più importanti si sta parlando degli assedi più importanti poi scommettono sulla loro ricostruzione quando l'assedio sarà finito e il problema in questo caso non è più un problema di storia della guerra ma è un problema di storia dell'economia e un problema di storia della società anch'io ho trovato questa parte relativa al ritorno la normalità una delle più suggestive anche perché coincide un po' con i nostri sforzi per un ritorno alla normalità ma una normalità stravolta dal virus e mi è parso anzi proprio uno specchio del nostro presente questo vivere una fase nella quale si cerca di riprodurre la normalità in una fase di anormalità come abbiamo fatto noi in questi tempi fino alla ricerca di una nuova normalità che non è appunto quella precedente in questi termini esatti ricordo già nei primi mesi della pandemia il filosofo sloveno Slavoj Zizek che si era espresso dicendo che la nostra normalità doveva nascere dalle ceneri di quella precedente dalle rovine delle nostre vecchie esistenze o ci saremmo trovati di fronte a un nuovo imbarbarbarimento allora lei parla anche di un assedio di un tessuto sociale nell'assedio per esempio di reti di solidarietà che si mettono in moto e tante ne abbiamo viste soprattutto nella fase iniziale di questa pandemia io chiuderei questa nostra discussione proprio con un ritorno alla normalità come si torna alla normalità da un assedio professor Barbero e il professor Musarro allora partiamo per primo da lei si torna si torna alla normalità oggi noi torniamo alla normalità illudendoci che questa cosa che è successa sia una cosa assolutamente unica eccezionale è una pagina che possiamo girare e non pensarci più in passato ovviamente ragazzi noi qui siamo a cavallo fra due metafore cioè o meglio fra una realtà è un libro che parla di assedi veri concreti fatti da uomini di guerra e dall'altro invece come dire la metafora del nostro assedio dell'assedio in cui noi viviamo attualmente non è facile stare come dire a cavallo di queste due cose però indubbiamente nel caso degli assedi il ritorno alla normalità voleva dire anche anzi voleva dire innanzitutto adesso ci prepariamo per il prossimo quante sono le località di cui si parla in questo libro che sono state assediate tante e tante volte nell'arco della loro storia ritornare alla normalità voleva dire beh la normalità ha due facce c'è la normalità che è guerra pericolo assedio e c'è la normalità che è invece pace che non è necessariamente più normale e quindi durante la pace noi ci prepariamo del resto del resto gli assedi c'erano perché in tempo di pace le località abitate erano state fortificate ed erano state fortificate a volte con investimenti colossali un grosso cambiamento nella tecnologia degli assedi si ha tra medioevo ed età moderna quando al posto delle mura medievali o antiche anche naturalmente come quelle di Costantinopoli cominciano a nascere le fortificazioni moderne i bastioni le fortificazioni che da noi in Italia che noi le abbiamo inventate si chiamavano alla moderna e che nel resto d'Europa chiamavano all'italiana ecco come le mura di Lucca ancora oggi per intenderci insomma ecco quelle basse profonde fatte di terrapieni che non vengono sfondate dal tiro dei cannoni ecco se voi guardate qualunque carta del 600 o del 700 la carta di una regione la carta di una città è sconvolgente per la nostra logica di oggi vedere come ogni città fosse circondata da queste fortificazioni che mentre le mura sono una linea rappresentano invece una superficie vastissima c'erano città e piazze forti in cui la superficie delle fortificazioni bastionate era equivalente a quella della città racchiusa all'interno e questo vuol dire che la normalità significava che i governi erano disposti a spendere moltissimo delle tasse pagate dalla gente per prepararsi al prossimo assedio ecco la normalità era questo la normalità era questo e gli assedi appunto del resto continuamente si verificavano io adesso non c'entra niente ma vorrei chiudere questo ultimo giro sottolineando che in questo questo nostro anno 2021 non sono solo i 150 anni dell'assedio della comune di Parigi sono anche i 200 anni della morte di Napoleone la carriera di Napoleone è cominciata con un assedio è cominciata con l'assedio di Tolone di questa città in cui gli insorti monarchici si erano impadroniti del porto il più importante porto militare francese nel Mediterraneo e immediatamente la flotta inglese era arrivata a impadronirsi della rada e i rivoluzionari dovevano a tutti i costi riprendere questa città altrimenti avevano la flotta inglese in casa ma non riuscivano a riprenderla e questo assedio come dire arriva a una svolta quando la mafia corsa fa andare al comando dell'artiglieria degli assedianti un giovane ufficiale corso che ha le amicizie giuste per l'appunto e il corso Saliceti è uno dei due inviati di Parigi e siccome incontra un altro corso che conosce bene conosce lui conosce il babbo conosce la famiglia e questo giovane buona parte lo mettiamo lui al comando dell'artiglieria e il giovane buona parte al comando dell'artiglieria organizza l'assedio in modo tale che la flotta inglese è costretta a sgombrare la rada dopodiché l'altro l'altro dei due inviati parigini uno era Saliceti appunto il corso e l'altro era il fratello di Robespierre niente meno e Augustin Robespierre scrive al fratello a Parigi dicendo ho incontrato un giovane ufficiale di una capacità trascendente e lì comincia la carriera di quello che noi conosciamo come Napoleone con un assedio quindi diciamo a conferma conferma che la normalità in passato era l'assedio è finito ci dobbiamo preparare al prossimo non so quanto questo sia un messaggio consolante se vogliamo scivolare dalla storia nella nostra metafora nel nostro presente ma il passato ragionava così Antonio Musarra prego sì c'è anche concordo su tutto quello che ha detto il professor Barbiero e aggiungo un aspetto ulteriore a mio avviso si torna alla normalità anche quando ci si può permettere di raccontare l'assedio cioè di narrarlo di reinterpretarlo naturalmente ciascuno racconta dell'assedio quello che maggiormente interessa un viaggio di Monluc che abbiamo citato molte volte questa sera utilizza queste narrazioni questi racconti da curriculum vite fondamentalmente per costruire il proprio curriculum vite e però queste narrazioni in un certo senso sono delle narrazioni che riportano alla normalità cercano di definire le tappe di quello che è successo che magari a volte è stato estremamente magmatico e quindi si ricostruiscono gli aspetti principali di quello che si è vissuto e in un certo senso si rielabora anche psicologicamente il vissuto stesso o almeno chi scrive e chi può permetterselo fa questa serie di operazioni e poi si costruiscono gli eroi ecco il momento della rielaborazione è il momento in cui emergono episodi ma emergono anche gli eroi coloro che si sono comportati in una certa maniera e al contempo si distruggono del tutto coloro che invece hanno sposato la mala guerra hanno fatto da traditori e vi dicendo quindi c'è una rielaborazione una rielaborazione che molto spesso è prettamente romanzesca è una narrazione a senso unico dei fatti e che sfocia anche qui in una letteratura che potremmo che abbraccia per certi versi anche il simbolico il professor Barbero ha citato la battaglia del fosso di Elm quindi io non posso esimermi dal citare anche la battaglia dei campi del Pelennor davanti alle mura di Nina Stirit che a differenza del film è una battaglia che nel romanzo si svolge nella completa oscurità ecco quindi perché Sauron ha come dire ha obnubilato la luce del sole quanto è simbolico questo siamo nel novecento siamo vicini a noi ma quanti simboli ritroviamo nella letteratura d'assedio che da Omero in poi possiamo dire ha accompagnato la storia dell'umanità ecco questo aspetto è parimenti un aspetto di riabilitazione e di quantomeno lento ritorno alla normalità grazie per quanto abbiamo sempre detto di non amare le metafore belliche per questo tempo in realtà poi proseguendo su questa strada narrativa e cinema stanno per l'appunto già rielaborando questo tempo presente professor Balestracci ci avviamo davvero alla conclusione abbiamo tralasciato tanti aspetti il libro è densissimo di cose che mi sarebbe piaciuto analizzare per esempio quel rapporto tra città e campagna che cambia quando c'è uno stato una situazione di assevio c'è un tema linguistico che è affascinantissimo parole che si riferiscono alle macchine da guerra per esempio o frasi che fanno parte proprio del gergo bellico le lasciamo a chi vorrà leggere questo libro mi auguro che siano tanti ma io lascio a lei la conclusione di questo incontro no questa volta l'ho accesso da me l'amico Alessandro giustamente interveniva a farmi da da badante no la conclusione è banalissima e molto e molto veloce la conclusione è che con questo libro ho provato continuo a dire ho provato a tracciare un qualcosa che fa come punto di riferimento a un concetto chiave cioè il concetto della paura quel concetto che quella sensazione che è in parte un motore importante della nostra della nostra vita la paura la paura esorcizzata la paura sbeffeggiata i tentativi appunto di di prendere in giro da una parte e l'altra sono tentativi di esorcizzare esorcizzare la paura la paura che viene in qualche modo anche domesticata in una maniera un po' come dire un po' lugubre cioè facendo e questo succede un po' dappertutto con gli assedi dell'antichità ma anche con i resoconti dell'assedio di Sarajevo facendo i conti con con la morte che diventa un qualche cosa di di usuale se si leggono le testimonianze proprio dell'assedio di Sarajevo insisto su questo più che non su quelle letterarie diciamo così dell'antichità si ha la sensazione davvero che poi alla fine si fa il callo a tutto e quelle cose che sconvolgono nei primi tempi di una situazione di catastrofe poi alla fine diventano quasi in qualche modo usuali vengono domesticati per forza li addomestichiamo perché altrimenti la paura ci uccide altrimenti la consapevolezza dell'enormità della della cosa della terribilità diciamo così di questi di questi fatti di queste cose ci annienterebbe questo è un libro che ha appunto la storia che ha la paura come come sottofondo e non casualmente si ritorna al punto da dove siamo partiti che è poi anche quello dell'introduzione non è stato casuale che questo libro sia stato elaborato è nato prima ben inteso ma che sia stato elaborato e scritto nel periodo del lockdown del covid perché è stato il periodo con il quale abbiamo fatto i conti con davvero con la paura e ho cercato di capire questo come si sia cercato di fare i conti con la paura in uno stato di catastrofe dall'antichità ai giorni ai giorni nostri io credo che ci possiamo indubbiamente fermare qui anche perché è molto che parliamo approfitto di avere la parola perdonatemi per ringraziare lo so che è sempre una prassi ma veramente in casi come questo come quello di questo pomeriggio non è una prassi ma è una una sensazione che mi sento di dover esplicitare la sensazione di gratitudine nei confronti della dottoressa sabina minardi e dei due carissimi amici Alessandro Barbero e Antonio Musarra i cognomi ce li metto solo per completamento perché sono soltanto Alessandro e Antonio due fraterni amici che hanno letto e commentato in maniera così lusinghiera il mio lavoro ovviamente non è soltanto per un fatto così di educazione ma davvero sono molto grato ai miei due presidenti perché sono orgogliosamente membro di entrambe le accademie ovvero Roberto Barzanti per quello che riguarda gli intronati e Giuseppe Manganelli per quello che riguarda i fisiocritici però nei titoli di coda permettetemi di rubare un pochino un minuto solo anche per ringraziare ringraziare altre persone che sono state fondamentali per questa chiacchierata di questa sera e sono Alessia Soverini e Cristina Ricotti del Mulino che non sono due collaboratrici ma sono due macchine da guerra mi hanno veramente impressionato e poi per quello che riguarda invece diciamo così la postazione la postazione senese l'amico e collega Gabriele Maccianti che peraltro è anche il responsabile della sezione storica della sezione di storia dell'Accademia degli Intronati e per la sede nella quale ci troviamo Chiara Bratto Alessandro e Francesco che hanno costituito altrettanti punti di riferimento fondamentali desidero davvero ringraziare tutti ringraziare chi ci ha ascoltato e ringraziare chi ha voluto perdere del tempo per parlare di questo mio libro grazie davvero di cuore allora buonasera grazie a tutti voi che ci avete seguito online e grazie ai nostri ospiti al prossimo libro professore grazie è una promessa arrivederci a tutti arrivederci buona serata grazie a tutti grazie a tutti